Ciao Luigi, io ero al bagno come al solito a leggere la mia copia di elaborare perché come tutti sanno io amo leggere elaborare al bagno perché non mi rompe le scatole nessuno, non ho la giusta posizione è fantastico, provateci anche voi, ma tanto so che già l'avete fatto Eh ma penso quasi tutti Eh beh vorrei vedere Volevo chiederti, terzo raduno nazionale elaborare al 4x4 Fest di Carrara, 11-13 ottobre Spiegami un pochino com'è questa storia Ma per quest'anno abbiamo deciso di coinvolgere anche la testata elaborare proprio perché essendo il salone della trazione integrale mescolare il mondo del fuoristrada con il mondo stradale con tutte le macchine 4x4 Quindi, aspetta, fammi capire un attimo Se io ho una Delta integrale, ho una Mitsubishi Evo, ho una Subaru Volevo sapere, quindi anch'io potrei partecipare? Ovviamente sì, anzi è un invito a tutti quanti proprio per condividere la passione del 4x4 Del fango? Fango non solo, beh, la Delta tante volte si è misurata nei rally sugli serrati ma questo anche le Evo e tutto quanto proprio per far sì che questi due mondi possano fondersi insieme quindi macchine non solo alte da terra ma anche macchine più basse Senti, spiegaci un po' come si svolgerà la manifestazione Ma il raduno ovviamente viene appunto messo in piedi all'interno del 4x4 Fest dall'11 al 13 di ottobre e sarà una manifestazione sia statica che dinamica perché ovviamente tu sai che molti possessori di queste macchine un pochino particolari Fanno un po' fatica Fanno un po' fatica Fanno un po' fioristico di questa bellissima area off road Ovviamente la terra useremo la parte per le macchine che fanno velocità in fuoristrada quindi non ci saranno avvallamenti Sarà piatta Sarà ovviamente una terra abbattuta Quindi tutto a favore dei terra piattisti Volevo sapere, gli orari più o meno? No, gli orari ovviamente è da decidere ancora con l'ente fiera Però l'importante è che le macchine, appunto chi vuole partecipare al raduno non obbligatoriamente dovrà avvenire nei tutti e tre i giorni Può anche fare ovviamente a singolarmente giorni L'importante, come tu sai, in ogni fiera entrare e uscire al di fuori dell'ingresso del pubblico Ho capito Due cose, si mangia bene? Sì In Carrara, insomma, in Toscana Gran cosa Seconda cosa Dove possono trovare i nostri amici tutte le informazioni dettagliate ed aggiornate su questo raduno Allora, praticamente abbiamo aggiornato le pagine dei nostri siti quindi elaborare.com, elaborare4x4.com e ovviamente anche le pagine Facebook Instagram e quant'altro Quindi io più che altro li esorterei a venire perché è spettacolo Andiamo tutti a Carrara insieme a Luigi Benissimo Io torno al bagno, quindi mi vado a finire di leggere Laborare Tu non so che stavi facendo Torna in piccionaia E ci vediamo presto E se non ci vediamo, possa dipende da te Ciao a tutti Facciamo le corne, un invito Mi raccomando, non perdete questa occasione 19esima edizione 4x4 Fest 11-13 ottobre 2019 Marina di Carrara Marina di Carrara Grazie a tutti Grazie a tutti